È stato magico, ma proprio magico. Le cose che impari sono soluzioni veloci ai problemi quotidiani, che le puoi applicare tutti i santi giorni. È proprio per quello, perché è una soluzione veramente fantastica, veloce, per avere una vita più felice. Ho sciolto due cose molto importanti per me, però vorrei tenermele per me, ecco. Sono dei blocchi, le mie paure, che ho sempre tenute, però sono andate. Mi sento molto più libera. Ciao, parti! Ti voglio tanto bene!